Adesso io voglio fare il provocatore, vi faccio ascoltare e poi facciamo un breve dialogo fra me e voi, anzi fra voi e voi è meglio, io faccio il conduttore, tra quello che ha detto Paolo Barnati, che mi auguro che prima o poi venga da noi una sera quest'uomo, chi lo conosce si metta in contatto e dica che noi siamo felicissimi di poterlo ospitare, perché le persone che raccontano la verità a me piacciono, è da morire insomma, piacciono, guardate e ascoltate quello che ha detto, vai regia. Romano Prodi è un sicario che ha distrutto le imprese italiane sia pubbliche che private, nel caso di queste ultime l'ha fatto consegnando tutta l'Italia a una moneta tedesca, l'euro. I disastri collettivi italiani che non sono seguiti non sono calcolabili, né raccontabili, soprattutto per me quello che mi colpisce, se pensiamo ai milioni di casi di sofferenze individuali di persone nei condomini, nelle case dei paesi, delle città, nel campo della salute, del lavoro, della distruzione di nuclei familiari per penuria, disoccupazione, se pensiamo alle speranze poi dei giovani, dei nostri figli. Prodi lo ha fatto di proposito qui, mentre dall'altra parte del mondo, in Cina, Romano Prodi, loda il sistema cinese che fa l'esatto contrario di quello che ci viene predicato, cioè l'austerità. Prodi fa consulenza in Cina, nel consiglio d'amministrazione del Boao Forum, sostanzialmente la Davos cinese, e nel consiglio d'amministrazione della più prestigiosa scuola di economia cinese a Shanghai, la China Europe International Business School. Oggi il presidente Xi Jinping vede la Cina rallentare, neanche in recessione, rallentare. Ha deciso di tagliare 90 miliardi di dollari di tasse alle aziende cinesi, mozzando la testa all'IVA senza pietà. All'IVA. ZAC! E ha deciso un aumento di deficit, anche quello, senza pensarsi un secondo. Prodi lo ha definito un campione dell'economia libera. Chiedetevi cosa direbbe al nostro governo, questo sicario cane, se oggi osasse imitare pari pari cinesi per salvare te, che stai ascoltando, il tuo lavoro e i tuoi figli. Un uomo così è un criminale di massa, è un doppio giochista da vomitare, e andrebbe fucilato dopo regolare il processo. Lo sottoscrivo. Ambasciatore non porta pena.